Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Tecne Dire Monitor Italia di domenica 1 ottobre 2023 sulla fiducia nel Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Chi ha fiducia è il 47,4% in discesa dello 0,1, chi non ha fiducia ha la stessa cifra, il 47,4% in crescita dello 0,2%. Quelli che non sanno non rispondono sono al 5,2% in discesa. La differenza è rispetto alla settimana scorsa. Grazie a tutti per avermi ascoltato, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Ricordatevi che c'è anche Tele Italia Seconda Rete, poi questi video sono condivisi in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie e arrivederci.